Quindi l'utilizzo di materiali molto performanti sia a livello di cappotto termico che di macchinari piuttosto che l'utilizzo di un fotovoltaico che permetta l'essere indipendente a livello di risparmio energetico. Iren Smart Solutions è una energy service company certificata, opera sia nel mondo dell'appalto pubblico che nelle parti private piuttosto che nel terzo settore come in questo caso. Lo scopo del nostro lavoro è offrire una soluzione chiave in mano che possa avere sia un risparmio energetico che una riqualificazione a livello strutturale di tutti gli immobili. Iren ha scelto di far parte del mondo sociale diventando socia di Fratello Sole Energie Solidali utilizzando come partner Smart Solutions e permettere così l'operatività tecnica ed economica di tutte le soluzioni esistenti. Nello caso specifico, in questo bellissimo progetto, si è fatto un'opera di studio di fattibilità iniziale molto approfondito valutando sia la parte strutturale dell'immobile, si parlava di un immobile degli anni 60, piuttosto che un efficientamento energetico. Quindi l'utilizzo di materiali molto performanti sia a livello di cappotto termico che di macchinari piuttosto che l'utilizzo di un fotovoltaico che permetta l'essere indipendente a livello di risparmio energetico. Si è ottenuto da questo studio di fattibilità un output che ha portato a una demolizione e ricostruzione dell'intero immobile con l'utilizzo di cappotto esterno, sostituzione dei serramenti, centrale termica di nuova generazione e la posa dell'impianto fotovoltaico. Il risparmio energetico così ottenuto è pari a un terzo di quello del consumo dalla bollette che erano state ricevute dal committente oltre ovviamente a una classe sismica che è pari a una nuova costruzione rispetto a quello che ovviamente si aveva pre-intervento. Questo vorrebbe dire al pari di un'emissione di CO2 e di un risparmio energetico al nostro cliente che possiamo quasi paragonare al consumo di tutti i telefonini di tutti gli abitanti di Milano. Grazie a tutti!